Sielo dato Gesù Cristo e di nuovo ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questo lunedì 19 luglio dell'anno del Signore 2021 e nell'ambito di questa presenza straordinaria di Maria anche qui a Schio in questi quasi vent'anni delle sue apparizioni a Renato la Madonna ha concesso il Signore attraverso di lei ha concesso anche molti segni straordinari e oggi proprio oggi 19 luglio ricordiamo il ventunesimo anniversario dell'ultima lacrimazione di Gesù al Cenacolo 19 luglio dell'anno 2000 nel pieno anno del Giubileo Gesù ha pianto la quinta volta perché ce ne sono state altre quattro prima adesso le ricordiamo ha pianto per cinque volte al Cenacolo e l'ultima l'ultima finora lacrimazione è stata proprio quella del 19 luglio dell'anno 2000 allora carissimi tutti dobbiamo ricordarle queste cose perché i segni che il Signore ci ha dato non possiamo sciuparli non possiamo dimenticarli non possiamo buttarli via ho detto che sono state cinque le lacrimazioni di Gesù la prima lo ricordiamo tutti 28 dicembre 1987 seconda 31 dicembre 1990 terza 4 maggio 1993 quarta 30 settembre 1997 quinta la già citata 19 luglio 2000 dell'anno Giubilare 2000 queste sono le cinque lacrimazioni di Gesù al Cenacolo Gesù che piange per ore Gesù visto da tanti non è stata un'invenzione non è che qualcuno si è inventato ha scritto tanti sono i testimoni dalla prima all'ultima lacrimazione tanti sono i testimoni che hanno visto le lacrime che si formavano quei goccioloni grandi che si formavano sull'occhio di Gesù bambino che poi scendevano lungo le gote il collo e andavano o nel cuscino sottostante tiravamo fuori i cuscini impregnati di queste lacrime o scendevano lungo il suo corpicino il corpicino di quella bella statuina che noi abbiamo là al Cenacolo statuina di Gesso tra l'altro regalata a Renato da una suora che viveva a Betlemme è stata regalata nel 1987 proprio quella statuina di Gesso ha pianto per cinque volte ore però ore su ore e che cos'è questo segno tra gli altri tanti che abbiamo avuto la croce l'apparizione stessa eccetera eccetera cosa cosa ci dice questo segno è il segno di Giona conversione conversione allora per non dire parole nostre che non servono a niente guardiamo proprio a ciò che dice la Madonna su queste lacrimazioni di Gesù perché alla fin fine è proprio il cielo che ha dato delle interpretazioni a queste lacrimazioni e quindi è giusto che noi le prendiamo in mano per capire se ancora oggi e speriamo proprio di sì questi segni ci dicono qualcosa bene era il primo gennaio 1988 tre giorni dopo la lacrimazione la prima lacrimazione di Gesù bambino avvenuta ripeto il giorno dei santi innocenti martiri dell'87 e la Madonna vado subito al punto e la Madonna nella seconda parte del messaggio dice Gesù Gesù che tu chiedi figlio mio io ti dono piange con me Gesù per la grande indifferenza degli uomini l'indifferenza la Madonna ha detto è il male più grande che possa colpire l'uomo è l'indifferenza perché l'indifferenza è difficilmente vincibile spaventoso questo ma oggi la malattia spirituale degli uomini soprattutto qui nel mondo occidentale è proprio l'indifferenza è vero può darsi ma chi se ne frega io continuo a vivere come ho vissuto prima anche di fronte a Dio che interviene io sono indifferente ma cosa vuoi che sia tanto si vive una volta solo godiamoci la vita poi si vedrà ecco la purtroppo la grande la grande mentalità suicida dico io dell'uomo di oggi piange con me Gesù per la grande indifferenza degli uomini ogni animo lui vede ogni cuore vede ma i cuori gli animi sono lontani da lui rimani lì vicino la mia voce non basta il richiamo le sue lacrime bagnino questa umanità arida o piangerà si piangerà questa generazione superba dal cuore indurito ascoltatemi figli miei sono parole forti dove la madonna dà l'interpretazione più importante delle lacrime di Gesù bambino l'umanità arida l'umanità indifferente gli uomini lontani da lui addirittura la madonna fa una preghiera le lacrime di Gesù bagnino questi cuori aridi questa umanità arida bagnino perché perché ed ecco qui sono parole del cielo se non vi convertirete se non crederete le lacrime del cielo in un certo senso questa generazione verserà le sue in abbondanza verserà le sue in abbondanza e non non stiamo qui ad aspettare chissà cosa deve capitare eccetera eccetera perché di lacrime ce ne sono già tantissime in questa generazione nelle famiglie nelle malattie nei fili lontani per droga per vizi per eccetera eccetera tante 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 sono le lacrime e le difficoltà nel lavoro tante sono le lacrime tanti sono i problemi oggi chi ha fiducia nel futuro solo chi crede in dio ha fiducia nella provvidenza ma chi non crede in dio vive veramente l'angoscia perché non sa cosa sarà domani non sa cosa sarà fra un mese già vedete insomma no già si si parla di nuovo ecco sta arrivando la quarta ondata ecco dovremo richiudere tutto di nuovo e molto presto anche sembra che il termine sia ferragosto dopo di che si comincerà dio solo sa vediamo vediamo per carità non è il caso di allarmarci però comunque sia lo vediamo le vediamo le cose inutile che facciamo finta di non vedere le vediamo però nonostante tutto vediamo ancora tanta indifferenza ai richiami del cielo tanta indifferenza tanta addirittura derisione e irrisione ai richiami del cielo la seconda lacrimazione è avvenuta come dicevo il 31 dicembre 1990 ed era proprio l'ultimo giorno dell'anno e l'ultimo giorno dell'anno poi si saliva la via crucis e la via crucis naturalmente la madonna appare nel capodanno tra il 90 e il 91 e la madonna in quella occasione dice figli miei benedizione e grazia su di voi che sapete cogliere ogni mio invito di amore rimanete con me anche nel tempo nuovo grave e serio è divenuto il presente incerto e pericoloso si fa il futuro degli uomini che hanno allontanato dio incerto e pericoloso si fa il futuro degli uomini che hanno allontanato dio figli cari queste sono ore della nuova crocifissione di gesù amatelo e stringetevi con me a lui non temete perché quanto più grandi sono i pericoli tanto maggiori saranno le grazie per voi che lo amate pace pace in tutti i cuori figli miei pace vi benedico stringendovi tutti a me ed è chiaro in questo messaggio lei non fa riferimento diretto alla lacrimazione che era venuto nel pomeriggio di quel giorno ma è chiaro che dicendo queste sono le ore della nuova crocifissione di gesù e voi sapete che nell'ultimo giorno dell'anno si celebra ancora si è nell'ottava di natale no quindi vuol dire che si celebra il giorno del natale ancora anche il capodanno è l'ottava di natale quindi si celebra il giorno di natale e la madonna parla dei tempi della crocifissione di gesù come dire sì è vero voi celebrate il natale ma ricordatevi che in questo tempo ancora una volta gesù viene crocifisso e le sue lacrime sono ancora una volta per quegli uomini indifferenti che mettono a repentaglio il futuro di tutta l'umanità perché hanno allontanato dio e al signore non resta che piangere non perché non ha il potere di sistemare tutto ma perché sapete che una delle regole del signore è quella di non violare la libertà umana e semmai di trarre il maggior bene possibile dal male che l'uomo permette e si permette ecco questo semmai quindi queste sono le ore della nuova crocifissione di gesù amatelo per asciugare le lacrime di gesù bisogna amarlo e stringetevi con me a lui stringetevi con me a lui in questo atto di riparazione in questo atto di consolazione in questo atto di testimonianza e di continua conversione affinché queste lacrime vengano asciugate per così dire bene allora passiamo alla terza lacrimazione avvenuta il 4 maggio del 1993 qui non c'è un messaggio specifico della madonna chiaro perché perché ormai con i primi due messaggi la madonna ha già fatto capire il perché nella prima lacrimazione ci ha parlato chiaro di uomo indifferente ci ha parlato chiaro di uomo lontano di uomo eccetera la lacrimazione è venuta poi dimenticavo di dirlo ma lo sappiamo tutti quanti il 28 dicembre giorno dei santi innocenti martiri l'indifferenza e il cinismo dell'uomo oggi che cosa sta facendo sta uccidendo anche i suoi figli nel grembo materno e dice che è una conquista sociale e dice che è un passo avanti nella cultura l'europa il 21 giugno scorso ha fatto un regolamento che non ha valore di legge ma è un invito a tutti gli stati di trasformare l'aborto in diritto umano diritto umano e quindi abolire ogni obiezione di coscienza pensate voi a che punti si sta arrivando oggi e qualcuno ride se poi si dice la madonna è apparsa il gesù bambino ha pianto ride di fronte a queste cose ride bene allora ripeto 4 maggio del 93 c'è la terza lacrimazione al cenacolo l'otto maggio quindi quattro giorni dopo è gesù che fa un accenno a questa lacrimazione con una frase che dice in verità vi dico il padre mio non permetterà che il mio sangue sia stato versato in vano sulla terra ma come il mio sacrificio oggi servono ancora anime sacrificate per poter salvare questa generazione perversa mentre gli uomini sempre più mi ignorano voi sempre di più credete in me e consolate il mio cuore che piange vi benedico ecco quindi c'è questo riferimento ancora una volta la generazione perversa la generazione adultera e perversa e mentre sempre più gli uomini mi ignorano si allontanano sempre più da me perché ormai non si conosce neanche più gesù voi sempre di più credete in me e consolate il mio cuore che piange consolazione allora preghiera consolazione riparazione adorazione eucaristica testimonianza della nostra fede perché anche questo lavorare per il regno di dio anche questo in umiltà naturalmente perché anche questo consola sicuramente il suo cuore che piange ecco quindi vedete no come le spiegazioni effettivamente a queste lacrimazioni ci sono quando un bambino piange perché piange chi ha esperienza di bambini piccoli sa che un bambino piange quando ha qualcosa che non va o ha fame o ha sete o ha sonno o ha qualche dolore qualche piange perché se no se ha mangiato bevuto riposate bambino è tranquillo pacifico gioca non disturba nessuno bene allora perché gesù bambino piange è chiaro che c'è qualcosa che non va è chiaro che lui ha sete sete di anime è chiaro che ha fame dell'amore di questa umanità che si sta costruendo da sola il suo calvario da sola si sta costruendo il suo calvario consolate allora il mio cuore che piange quarta lacrimazione 30 settembre del 1997 qui purtroppo non ho il messaggio sotto mano perché non sono riuscito a non ho avuto il tempo più che altro di trovarlo ma credo che se lo cito ve lo ricorderete tutti quanti lo stesso la madonna appare sette giorni dopo il 7 ottobre del 97 e che è il giorno della madonna del rosario e se vi ricordate parla dell'eucaristia uno spaventoso numero del popolo di dio si accosta alla mensa del signore come al pane quotidiano quindi la madonna ci parla dell'eucaristia in questo caso la profanazione eucaristica dice sempre nello stesso messaggio la profanazione del santissimo è il più grande malanno e chiama l'ira di dio e chiama l'ira di dio cioè non lo guardate non sono io a dirle queste cose perché non mi permetterei mai di parlare di ira di dio ma è il messaggio della madonna un messaggio che non è stato pubblicato naturalmente per motivi che non sto qui a dirvi eccetera però eccolo lì la profanazione del santissimo è il male più grande nella chiesa di gesù e chiama l'ira di dio e chiama l'ira di dio e poi la madonna conclude mi ricordo anche se non il testo sotto mano parlando che se questa generazione non si converte piangerà questa generazione ancora una volta piangerà ecco allora vedete come le spiegazioni ci sono l'indifferenza degli uomini la caduta della fede la caduta della fede e quando la fede cade e ha come obiettivo non come obiettivo ma come diciamo così come manifestazione l'allontanamento anche dal santissimo sacramento la profanazione stessa del santissimo sacramento che che è presenza viva di cristo l'allontanamento stesso della fede nella presenza eucaristica di gesù perché ormai si parla tranquillamente ma sì e gesù è presente sì ma qua ma la ma su ma giù o addirittura qualcuno apertamente dice simbolo o parla di una presenza spirituale un po la maniera protestante cioè è chiaro che noi ci stiamo allontanando dal centro della fede dal centro dal pilastro portante dal muro portante della stessa fede del stesso credo e della stessa chiesa e quindi chiaramente questo naturalmente fa piangere il cuore di dio fa piangere il cuore di dio anche lo ripeto per le conseguenze che in fondo da soli ci stiamo costruendo bene allora arriviamo così all'ultima di queste accrimazioni era il 19 luglio come oggi lo ripeto dell'anno 2000 dell'anno del signore 2000 anno del grande giubileo del 2000 2000 anni dall'incarnazione e il 22 luglio quindi tre giorni dopo la ultima l'ultima finora l'accrimazione del cenacolo dice gesù ancora una volta bisogna che vi facciate ultimi e servi per ritrovare davvero la misura della vostra coscienza umana bisogna che la vostra umiltà si faccia vera fino al pianto altrimenti non potrò più contare su di voi e le mie lacrime dovranno sostituire ancora le vostre lacrime miei discepoli non sciupate i miei segni ecco i miei segni riferimento al segno non sciupate i miei segni ricordatevele bene queste lacrime non perdete il significato di essi dei segni non scivolate nella superficialità ma rimanga folgorato il vostro cuore io gesù vi dico questi segni che sono annuncio di un grande segno li avrete ancora per poco tempo vi benedico ecco quindi vedete qui c'è sembra più un riferimento invece più che al mondo intero sembra un riferimento più a chi lavora in quest'opera dell'amore perché infatti lui dice bisogna che vi facciate ultimi e servi bisogna che vi facciate umili fino al pianto perché altrimenti non potrò contare su di voi e le mie lacrime dovranno sostituire le vostre lacrime quindi chiaramente è chiaro che il messaggio in questo caso sempre rivolto al mondo intero perché gesù non parla mai per uno solo o se parla per uno parla poi in riferimento a lui per il mondo intero chiaro ancora oggi possiamo dire che le lacrime di giù stanno sostituendo le nostre ma fino a quando e per quanto tempo ancora non sciupate i miei segni non perdete il significato di essi non scivolate nella superficialità ma rimanga folgorato il vostro cuore ed è facile sapete scivolare nella superficialità perché moltissime volte si dice beh sì avevamo già visto è un'altra lacrimazione come quelle di prima guardate anche i segni ci si abitua purtroppo purtroppo quindi non si volate nella superficialità ma rimanga folgorato il vostro cuore io gesù vi dico questi segni che sono annuncio di un grande segno li avrete ancora per poco tempo ecco quindi aspettiamo comunque perché è annunciato aspettiamo comunque il grande segno il grande segno che la madonna ha promesso nel messaggio del 26 settembre se vi ricordate 1991 ecco ci sarà un grande segno allora molti saranno glorificati molti si convertiranno chi non lo accoglierà neanche quel segno che evidentemente sarà così visibile così chiaro che non si può rifiutare ma chi lo rifiuterà cadrà nell'eterna dannazione ecco sono parole molto effettivamente molto molto forti allora eccoci qua quindi dobbiamo veramente riflettere su queste cinque lacrimazioni che ci parlano dell'indifferenza e l'allontananza degli uomini che ci parlano del del grande delitto contro la vita nascente contro la vita in generale che ci parlano diciamo così della dell'allontananza della caduta della fede e che ci parlano anche di noi di noi più vicini che molte volte rischiamo effettivamente la superficialità rischiamo diciamo così di non farci più folgorare nel cuore da questa presenza di calare nell'amore di calare nelle pratiche religiose e di dividerci tra noi un sacco di cose che purtroppo che purtroppo non vengono da dio ecco non vengono da dio quindi gesù piange anche per i suoi più vicini molte volte i quali invece di avere in mente magari il regno di dio hanno in mente altre cose piange anche per i suoi ecco e dobbiamo tutti tutti a partire da chi vi parla fare chiaramente un esame di coscienza allora ecco vogliamo veramente considerarle queste lacrime ricordarle queste lacrime sapete che poi nel 2008 ci fu una forte profumazione che proveniva proprio dal bambino gesù dalla teca del bambino gesù ricordiamo nel 2016 che ci fu addirittura quei ragazzi tedeschi che hanno visto gesù bambino respirare vi ricordate è stato anche sul giornale questo grande segno di questo profumo e di gesù bambino che respirava visto da 7 8 ragazze tutti insieme ecco quindi dobbiamo veramente veramente considerare che i segni ecco ci sono stati anche dopo anche dopo diciamo il 2000 anche dopo la dipartita terrena del nostro caro renato c'è stato ancora qualcosa che ci ha richiamato a queste lacrimazioni e chi lo sa può darci che ce ne saranno ancora di queste cose solo il signore lo sa ma certamente quando i segni vengono è per rafforzare la nostra fede per folgorare il nostro cuore e se non ci saranno più segni ricordiamoci le parole del vangelo di oggi questa generazione adultera e malvagia chiede un segno lo dice il signore quasi con un'esclamazione ma come fate a pretendere un segno voi generazione adultera e malvagia il grande segno ricordatevelo è il segno di giona conversione conversione perché altrimenti il futuro si fa veramente pericoloso e incerto e noi allora preghiamo e ripariamo per cercare di asciugare qualche lacrima del cielo cielo dato gesù cristo che è un'esclamazione ma come fate a fare un'esclamazione ma come fate a fare un'esclamazione questo è un'esclamazione ma come fate a fare un'esclamazione ma come fate a fare un'esclamazione Grazie a tutti.